Sono avventati di nuovo da te Cazzo siete Grande Dov'è? In tocca Oh! In tocca Un patto in tambi Oh! C'è ancora gente Fissi che riscati Butta di Andrea Andrea In cioè butta Andrea il senti Assi il senti Oh Get, 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 get mi senti, mi senti, mi senti mi senti, mi senti allora se mi senti io vado nella casa nostra cioè con i tronchi ma non mi senti ah che sia pure te beh, non mi senti o no? stavano lo scudo da 50 e lo scudo guarda nella finestra lì ho scudo grande stavano nella finestra lì è una chug fattela fattela vuoi una slap? no no, ora vado a prendere l'altro l'altro scudo che era qui vado ma non c'è nessuno in questa casa quindi devo buttarlo è l'ultima aieza ormai conviene lutare prima di pushare questo non è una delle partite quindi un volta per pushare subito e moriamo a nord sapete che a quest'è moriamo appena riega è nato aspetto come dire? si, si, infatti io te ne ho preso ci pushano a noi si 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 sono molto vicini finchè qui sono cazzo nettato a caso dai non ci gira per la strada di merda ma che cazzo è ma tre ore che mi spariamo entrami ci hanno disfatti questi aspetta c'ho me lì grazie vuoi una scuola dei suoi guanda si tu ce l'hai si e che cazzo prima volta che gli sparavo era fu il scudo anche il bastardo si aspetta eh che mi sto operando arrivo ma devono essere vicini ok si 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 due note due le casette ah si ti ho visto vuoi allergica non00 sono è una cazzo è una cazzo e' una cazzo una cazzo non è data cazzo ma è data cazzo la terra sentate di scudo ho invitato quello che sta pushando ciao noo dai tutti i miei cecchino non so che ragazzo ma perchè c'è ne hanno colpito tutti altri no no pusha non altri no bravo questo è che cazzo non riesco ad adeggiarmi dai Oh, che stacca! Dai... Bene sta, le modifiche le scale, le modifiche le scale, le fogliano. Ma è da solo, poi. Dai, oh, però! Ma che cazzo è stasera? Cazzo. Hai il cecchino, no? Eh, lo so, io provo a farle colpire con la... Puscia, puscia! No, ha cambiato idea. Cazzo devo caicare. Eh, vattene. Cazzo, non ho avuto, non ho del tempo di realizzare. Io non ho avuto. Dove adesso coglione? È l'altra strada. Io mi faccio sui scuri. Sì, cazzo, faccio. Vai, chi dove, chi dove! No. Ma sei andato, sei andato, non ho. Questo è quello che prima intorno. Ma qui sotto, qui sotto. Stai andando da dare, mi stai spaccando sotto. Sì, 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 ti faccio. Mi sto caricando i pompe intanto, tra i tuoi colpi. Pompare un attimo. No, 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 no. Sì, 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 sì. 2 2 2 3 sei cagato dai lutiamo cazzo dai mi ha salvato c'è un altro pompa se vuoi si si avremo le brani c'era un acciago qua in giro è pieno anche di medici io mi faccio una pozza e mi tengo i medici praticamente serve tutto cioè mi uniscono i medici si adesso ho trovato un pompa dov'è l'altro pompa è in mezzo è una slab buonissima non l'hai trovato? no ehm aspetta qua 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 ci sono colpi di cosa? e quanti ne hai? a me servono colpi di aspetto che ne ho 50 colpi di aspetto che ne ho 50 colpi di aspetto che ne ho 10 e basta di salto di cecchino ok guardi cecchino mi ha vendotto non basta dobbiamo fare secondo jump abbiamo io una io una saliamo sopra vabbè siamo in save siamo arrivati oh dobbiamo vincere dopo che siamo sopravvissuti a tutto questo se vinciamo questo fanno 3 di filo vuoi la legna? vuoi la legna? vuoi la legna? vuoi la legna che è full? eh ne ho 568 però non mi basta sei altro materiale invece 200 non lo so vedi sto più questo vabbè vabbè allora da dove si perdono oh questo altro, questo atto è nelle fabbiche mhm ah si no 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 vabbè ma stasera io non ci sono però manco pure queste tonote vabbè che stavo correndo però il tanto non bevistio e senza skin vabbè allora ci avviciniamo Aspetta, ero l'occasione Ok, li distrago qua allora Uh, quello lì è pronto a cecchina È all'anciato Vai, mi faccio il medico Colpito, colpito, colpito quello col bazooka Dicettino, ok li possiamo gusciare ora Non è che c'è un altro, ah no, è senza skin che è saltato da lui Poi se vuole dargli le cure perché non ce le ha Bellissima, ottima Vediamo quante cure avevano e di che tipo 3 scudini Oh, è sparente Poi se lancia i razzi Ho lasciato i meli che c'è 11 razzi, tu? Ehm, non ne ho, 0 Proprio 0, te ne ho messo male di un ufficio Vuoi di assalto, è una 260 ancora E non una 200 Dammi una cinquantina, dammi una cinquantina Oh, te ne ho messo male di un ufficio Minchia, questi tanti viene dato 37 di compo Oh, guarda quanti Stanno jumpando tutti di là Ah sì Minchia Che facciamo, jumpiamo anche noi per andare o? Sì, 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 sì Già andiamo perché c'è lago Oh, fai sentiš una FEM para Aspetta non vedo bene beh cusciano di pevuto si 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 è uno che sotto lo vedo attento attento l'altro team e che cazzo non mi vuoi raccogliere il il battuto ok di cecchino quello che formava perchè di cecchino quello che formava ok guarda oh safe cazzo mi è stato sotto questa schifezza uff se questi li abbiamo scoperto ma lì non è che si trova davvero mentre faceva di minimi non erano scassi si si è un po' qui uno qui che ci amavano coltello di città quanti erano qua hanno un po' vero tra i tre erano ed erano tutti i nostri quindi ci sarà l'ultimo di quelli no no di questo team qua davanti ah qui almeno due si si almeno due ok nella casetta rotta ok nella casetta rotta oh oh qua dentro qua dentro qua dentro aspetta 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 lol sopraati io non c'è io non c'è io avevo cecchino 1 avevo cecchino 1 avevo cecchino 1 a 60 10 eh ho visto e che poi ho sentito i passi qua sotto avevo lasciato un bomba tanto non l'ho fatto le quiche porta più cura porta più cura uno c'è uno c'è uno nella casetta rossa quanti grazie hai eh dice no dice no ma hai lanciato tu? si si c'è no hai una jump tu? no si si ne ho 3 ne ho 3 ne ho 3 jump mi dai 1 avverti 6 qui in questa casetta rossa ce n'è che cazzo hai ucciso qui? mi sembrava che non l'aveva non l'avevo con il giro mi sembrava che non l'aveva oh davanti noi davanti noi davanti noi un attacco che l'aveva un attacco magari che c'è 3 è lontano noo 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 cazzo noo hai scioltato il mone noo noo non ci posso credere mi hai disciattato mentre scendevo, non ci posso credere te hai rimasto? no vabbè non ci posso credere non lo deve essere solo per forza forse c'è anche gente ancora a terra quando ero atterrato solo? quando ero atterrato solo? quando ero atterrato solo? quando ero atterrato? no, no, solo quando ero atterrato eh, finiscili, finiscili quando ero doppio lanciarazzi si, si, si ma lo l'ha salto ti attendo, eh? alla torre al finito cazzo le jump non ho paesato ecco, ecco ecco questo era quello che ero mortito nooo vai in alto, vai in alto forse siete uno contro uno, lo sai? può essere, eh? non lo so si, perché l'altro era, l'ha mortito pure non lo so cazzo ho fatto lo sta coerando quello oh, è un sacco tutto è tutto è tutto eh eh, si, si, si si, si si, si Sto la mettendo dal cavo Alla Ancora 6 dove uno contro uno Ok, qui punto Cioè lancia pazzi 22 kill 13 o 9 Bella Dove è l'ultimo? Se tende il fortino la sopra in alto Capito che è quello che è rimasto Sì, sì, probabilmente è lì Andrò Vabbè sono in 6 squadra tipo Sì, ma anche sempre in alto Sto dentro Mi stanno guardando i tre pezzone Sì, se ti cerchino da di sopra Con gli anghi dei muri Ok Eccolo Che c'è? Sotto, sotto, sotto non è carico cosa faccio un lanciarsi scarico da mezz'ora io da prima cliccavo da mezz'ora e non si 1160 danni è che in teoria con te nei danni ai giocatori anche quelli ha i termortiti anche a fare i danni ai termortiti è facile fare 100 danni non so perché hanno fatto sta cosa che li ho montato 9 headshot